Ho preparato un consome di crostacei un po' diverso, perciò abbiamo dei asparagi di mare, abbiamo moluschi, poi la particolarità di questo piatto è lo scoglio, perché ogni mare ha anche uno scoglio e perciò abbiamo fatto uno scoglio fatto con consome di crostaccio e patate viola. Questi si sciolgono appena versiamo sopra un consome di crostaccio caldo e questa è la particolarità di questo piatto, perciò abbiamo un piatto bellissimo con questo scoglio che si scioglie lentamente come il muschio che copre le pietre. Grazie a tutti.